Buon risultato della Lega in provincia dell'Aquila con l'8,4% dato superiore a quello regionale, rieletto Emanuele Imprudente, il più votato in regione della Lega, che conferma il buon lavoro fatto della coalizione, oltre a Vincenzo Dincecco. Imprudente è stato vicepresidente della Giunta, assessore con deleghe importanti come l'agricoltura e il ciclo idrico entregato, ma per la Giunta è presto, Marsilio ci sta lavorando. Abbiamo confermato soprattutto in provincia dell'Aquila quello che è anche oltre la media nazionale che i sondaggi d'anno, segno che sul territorio siamo presenti, abbiamo lavorato in questi anni e abbiamo tanti impegni da portare avanti per continuare quello che è stato un risultato storico. E' anche bene ricordare che confermare lo stesso colore, in questo caso il centro-destra, il regione Abruzzo è la prima volta che succede nella storia. Ma io sto a disposizione di quello che sarà l'assetto generale che verrà definito da parte della coalizione, insieme al Presidente, ovviamente quello che la Lega tutti insieme decideremo. Io credo che questo risultato sia il risultato di un buon governo, di un'azione di governo solida, di un'azione di governo che ha affrontato i problemi dell'Abruzzo, che ancora ha tantissimi problemi, ma abbiamo tracciato un percorso. Il sottosegretario Luigi Deramo, segretario regionale del Carroccio, spiega che già stanno iniziando le prime interlocuzioni, ma non ne fa un discorso di poltrone. Come sempre, come abbiamo fatto in questi cinque anni, lavoreremo per dare risposte sempre maggiori e in tempi particolarmente brevi a quelle che sono le sfide per l'Abruzzo, lo abbiamo detto in tutti questi cinque anni, lo abbiamo fatto in questi cinque anni, lo abbiamo detto anche in quest'ultima campagna elettorale. Del resto la Lega è un partito importante, è un partito che nella stabilità, della compattezza del centro-destra ha sempre fatto una bandiera e poi questo si è anche un po' rivelato il punto di forza dell'intera coalizione. Quindi adesso cercheremo di comporre nel più breve tempo possibile la Giunta e quindi il governo regionale poi si partirà per questi cinque anni che saranno sicuramente strategici, importanti e saranno quelli fondamentali per portare l'Abruzzo nel futuro. Stanno iniziando già le prime riunioni, possiamo dirlo? Ma ci sono delle interlocuzioni come normalmente accade, poi aspettiamo anche che il presidente Marsilio inizi sostanzialmente un ragionamento con tutti quanti i partiti della coalizione.